ciao righelle siamo tornati con un nuovo video e questa volta faremo una challenge facciamo la what's in my mouth challenge non so se l'ho detto giusto comunque cosa c'è nella mia bocca in sostanza spieghiamo bene a manuel ea tutti voi cosa succede tu fai il bravo mi raccomando praticamente sceglieremo 5 oggetti 5 persone 5 di più adesso vediamo come ci prende sta cosa a turno bendati e inseriremo nella bocca dell'altra persona che dovrà capire di cosa si tratta ovviamente ma noi specifichiamo nessuna cosa pornografica o dannosa va bene salute le brighelle bene iniziamo che parte aiuta ti bendo vendati ci vedi ci vedi no ora che tengo gli occhi chiusi ci vedi no gli occhi chiusi cosa vuoi che ci vedo ciao dove sei dimmi qua signor papà sei pronto ma devo indovinare il gusto dell'oggetto devi capire cos'è apri grande è già troppo profumato apri grande chiudi è un fiore che fiore è che fiore è schifo è una rosa bravo amore ma tu sei andato a prenderla l'ho trovato prima giù no no li scegli in base alle tue cattiverie oh mi raccomando ok si vedi no quanti sono questi ho gli occhi chiusi va bene amore non sta a far cose porno apri grande ma non è morsicare amore dai apri appoggi i denti qua buono è buono ma metterlo tutto in bocca qualcosa di ferro ma si muoce già ancora ma girano un po fammi capire ah un po' e basta stupido che cos'è un cacciavite un cacciavite grosso così un cacciavitone va bene siamo uno zero no ma aspetta ho vinto ma fammelo sentire vuoi sentirlo tutto apri la bocca te lo faccio passare senti che lungo che è il porta mec per tenerlo esatto stupido sei pronto sì non respiro neanche apri grande ma è duro apri grande chiude chiude un po' che rinno cos'è 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 un po' che stai andando l'apanero non c'è più ho niente nobita l'umido tieni gli occhi chiusi Ce li hai chiusi? Si Amore, ma non metti davanti la telecamera Non sono davanti la telecamera, apri grande Apri grande Poco fu cara Alcol 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 Fa male Fa bene il fuori Mi hai fatto male, io non ti ho fatto male Sono venuti conati di vomito Ma che schifo, ma che male Ma che schifo, ma già lo abbiamo genitato Devo aprire? No Che devo fare? Apri grande Aspetta Dov' guardare Apri grande, grande, grande Chiudi forte Forse Che schifo è venuto a fare il culo della gallina Mone, non l'ha mai lavato Cos'è? Un uomo? Si Ma che schifo è venuto a fare il culo della gallina Eh Dai Ciao Sei ben data? Oh Dio Si No, respirare Fai un bel respiro Apri grande Butta fuori l'aria No Si Butta fuori l'aria Che lo rifai Ma fammi sentire No Così Vado Cos'è? Cannella Cannella Ah Cannella Ah 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 Chi è? Ah Ah Non è un po' È una specchia Che specchia? Ah 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 Non è picante farina 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 del mio sacco è farina te mi hai fatto mangiarlo io genito io ti ricordo sono vecini perché gli altri anni è venuto l'aria apri chiudi gli scocchi e gli aiuti non le vado perché tu li mangi gli scocchi e gli aiuti ma non sto male non sto zoomando sto mostrando cos'è tappati il naso no se non capisci cos'è no, non mi tappo il naso è una mezza non ci può bastare no amore è pochissimo amore fa un bel respiro è qualcosa di alcolico no fa un bel respiro l'odio l'accento che schifo non è preciso l'accento balsamico di model i italia igp che schifo hai da mangiare un kiwi ma cazzo l'hai visto ma no l'ho visto idiota uno prende la più prima ma era troppo facile come se ho detto per assenti i peletti sei subito che era un kiwi no avrei pensato un'altra cosa vendoli perché stai aprendo l'acqua perché mi sono lavato le mani chiudi gli occhi amore mi viene da fare l'utino che schifo l'accento mi hai dato qualcosa di buono è buonissimo beh dipende dai gusti amore no è miele non è miele anche questo non è un gran maglia ma cumino cumino adesso qui è il papà ah i femmini papà i femmini papà i femmini papà i femmini papà quella è la chiamata di papà oh è la chiamata di papà ah si bene ragazzi la what's in my mouth challenge finisce qui io ho la bocca uschionata odio l'aceto l'odio l'aceto infatti dovevo provare col tartufo con Manuel ecco ma sono stata troppo gentile e niente noi ci vediamo presto con un prossimo video ciao saluta ok ragazzi mi sono dimenticata di dirvi che taggo per questo video mia quindi gnappetta Ilaria quindi Ili Style e oh mannaggia mi sfugge il nome la mamma di Bombolone la mamma di Bombolone no non è possibile Miss Gerberina quindi Miss Gerberina e niente ciao 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 ciao